Entro il 5 luglio il governo italiano presenterà le sue osservazioni alle deduzioni croate. È una data che ci siamo posti come deadline perché siamo sicuri che le nostre osservazioni saranno così forti che la Commissione europea non potrà che respingere la richiesta croata di riconoscimento della menzione tradizionale Prosec. Italia unita contro il Prosec croato. È un Parlamento che ha fatto fronte comune in difesa del Prosecco. Sono questi i fatti emersi ieri nel corso del vertice che si è tenuto nella Sala Caduti di Nasseria al Senato di Roma. Dovevamo fare il punto della situazione qui a Roma dove abbiamo dimostrato l'unità sia prima in Commissione agricoltura ma poi nell'Aula del Senato assieme al governo tutti quanti uniti per combattere il Prosec. Una battaglia che ha visto la solidarietà di altre eccellenze italiane preoccupate che con l'apertura al Prosec vi fosse un'ulteriore apertura sul fronte di prodotti fotocopia come il parmesan per il parmigiano reggiano o il cambozzola per il gorgonzola. Una solidarietà è arrivata addirittura fino a Bruxelles. A livello anche europeo siamo stati supportati dai colleghi dello champagne, dai produttori di birra di qualità ma anche dalla Scozia è arrivato un endorsement dai produttori di whisky. Quindi vuol dire che tutti coloro che dicono in questo momento che il Prosecco è da tutelare, il Prosecco è da aiutare da questo Italian sounding interno all'Europa vuol dire che sono con noi e vuol dire che sanno che se dovesse cadere il castello del Prosecco in questa battaglia cadrebbero le denominazioni europee. Questo sarebbe un grande problema. 20 giorni dunque per chiudere il caso Prosec, un caso con un dossier presentato dai croati che di certo non ha impensierito il governo. Non vi è nulla di giuridico, in tutto il dossier non è citato una sentenza, una norma ma semplicemente l'aspirazione dei croati di continuare a produrre, dicono queste 10.000 bottiglie che comunque sono illegittime perché evocano il nome Prosecco e per l'ordinamento comunitario questo non è consentito. Quindi tutti quanti uniti, i consorzi del territorio, i quattro consorzi del territorio, il Parlamento unito alle unanimità assieme al governo, io sono fortemente ottimista che le cose andranno bene.